Mi stavo addormentando, mi stavo addormentando, ero lì bello beato, lì sul divano a guardare la partita, c'è una biocca, una stanchezza incredibile a guardare uno dei Parma più brutti di quest'anno, forse veramente il più brutto, almeno da vedere, partitaccia, partitaccia, partita lenta, partita inguardabile, veramente inguardabile dal punto di vista di un tifoso del Parma, ma poi, ma poi, all'improvviso, come un pulmine c'è il sereno, forse, se sei tifoso del Parma, come qualcosa che ormai è diventato un abitué nelle tue partite, qualcosa che non può ormai non esserci, cioè era già strano che ti avessero concesso un calcio di rigore così al VAR, ci doveva essere quella cosina che ormai ti mancava, che eri lì dopo 4-5 partite, che hai continui, continui, torti, grossi quanto una casa arbitraria, ormai eri lì, eri lì ad aspettarlo che arrivasse puntualmente, anche questa volta, anche in una partita dove, ve lo dico, tifosi della Roma, strameritavamo di perdere, strameritavamo di perdere, la Roma ha fatto una signora partita, tutto ciò che dirò adesso non c'entra nulla alla Roma, la Roma ha fatto la sua partita e ha meritato tantissimo di vincerla, quindi accantoniamo la Roma che non c'entra niente, è arrivato il torto arbitrale, anche questa volta, e non un piccolissimo torto arbitrale, no, ma secondo voi, poteva mai capitare un piccolo torto, forse un rigore che poteva esserci, come no, magari il processo di Biscardi avrebbe poi sentenziato che probabilmente si sarebbe potuto esserci, no, un rigore grosso quanto il Titanic, una roba enorme, gigantesca, che appena, mentre si stava guardando la partita, io, i miei amici, tifosi della Roma, tutti, abbiamo detto, boh, rigore netto, il VAR è andato anche a rivederselo, dal vivo, sul momento, non me ne sono neanche accorto, ma dal momento che c'è il VAR, c'è la famosa moviola in gambo, che voleva Biscardone nazionale, c'è questo qui che colpisce la palla, la colpisce qua, col braccio largo così, dopo aver visto il calcio di rigore contro la Fiorentina di Darmian, per me, per me, che ho vissuto quel calcio di rigore dall'altra parte, dico, boh, boh, rigore netto, dai che magari riusciamo a portarci a casa un pareggio immeritatissimo, dai che forse ce la facciamo, altanto al VAR gli basteranno due secondi per vederlo, due secondi, no dai tre, cinque, otto, dieci, che cosa sta succedendo? Fabri? Fabri ci sei? Perché stai continuando a rivedere l'azione? Fabri, rigore grossi, sta toccando la palla, si vede che, Fabri? Fabri hai bisogno di questi, Fabri? Fabri si gira e dice, per me no. ma per me no cosa? Ma per me no cosa? Ma per me no cosa? Come per me no? Come per me no? come è possibile, Fabri? Fabri, come per me no? Cioè, le regole del calcio non sono soggettive, cioè, Fabri, Fabri, braccio alzato, nuova regola, braccio largo, oltre, tocca la palla, tocca braccio, rigore, non c'è più volontarietà, Fabri, Fabri, come per me no? come per me no? Cioè, non è che t'hanno chiesto, Fabri, secondo te la terra è rotonda o è piatta? ma per me non è rotonda. No, Fabri, figa, cioè, chiaro, è lampante che la terra sia rotonda, Fabri, è lampante, lo dicono tutti, lo vedi anche, lo puoi vedere che la terra è rotonda, Fabri, come per me no? Non puoi rispondere per me no, cioè, quello lì è rigore. Cioè, Fabri, tu in quel momento, per me sei un terrapiatista, sei un terrapiatista, come, cioè, io ho avuto la stessa reazione che avrei, veramente, a un comitato di terrapiatisti, a quel per me no. Cioè, hanno riso pure i telecronisti, ma come per me no? Io, ragazzi, sono all'Ibi, ripeto, mi incazzo anche molto meno stavolta, perché non la meritavamo comunque, quindi sono molto meno incazzato, però sono anche, più che meno incazzato, sono anche ormai proprio, me la lascio passare addosso, ormai mi fa ridere. È arrivato al punto che mi fa ridere, mi fa ridere vedere ste robe incredibili. Tutte contro di noi, poi. Tutte contro di noi. Sempre contro di noi. Cioè, siamo diventati, come ho detto l'altra volta, lo zimbello della serie A. Siamo lo zimbello della serie A. Il primo rigore, ragazzi, anche quello lì, cioè, era grosso quanto una casa, e già, aver visto, finalmente la var che funziona, con Fabri che vede il tocco, sul polpaccio di Cristante a Cornelius, con, vabbè, effettivamente Cornelius che si lascia andare, ma, cioè, dopo aver visto Di Carmine che si tuffa, manco fosse Tania Cagnotto, al piccolo tocco di Bruno Alves dietro la schiena che prende posizione, per me questo è rigore grosso quanto una casa, quello su Cornelius, ma gigantesco. Non quanto il Titanic, ma gigantesco comunque, a prescindere dopo quella scenetta di Di Carmine. Io me li aspetto, questi calci di rigore, e giustamente vengono dati. Poi, parlando della partita, la Roma ne esce fuori molto bene, riesce a segnare con Mkhitaryan, tra l'altro mi segnano Mkhitaryan e Veretout al fantacalcio, mi segnano contro. Bene, proprio mi fa molto piacere questa cosa. Mkhitaryan che fa un bel gollo su Pezzella, diciamo che è, diciamo, colui che sbaglia durante quell'azione. Pezzella oggi non mi è assolutamente piaciuto, diciamo che i giocatori della Roma sono scesi sempre dalla sua parte, sono sempre stati pericolosissimi da quella parte, ma in generale il Parma non mi è piaciuto. In generale tutto il Parma non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, non mi è piaciuto da Versa come ha messo in campo i giocatori, non mi è piaciuto proprio come ha deciso di gestirla la partita, completamente bassi, attendisti. Giocavamo praticamente a Torello, con la Roma che ha più che altro sbagliato lei a non far più di due gol che noi a evitare che loro li facessero. Tantissimi veramente errori in generale da parte di tutta la squadra, dall'allenatore a finire fino ai giocatori. Ho visto veramente una brutta partita dalla partita del Parma, non ho capito i cambi, non ho capito il cambio di Cornelius per Kucca. Cioè, posso arrivare a immaginare, vabbè, borrà un giocatore più fisico davanti per tenere sulla palla e Cornelius è molto stanco ultimamente. E figa, mi metti Kucca? Cioè, che comunque anche lui è bello cotto? Cioè, il discorso sta tutto lì, no? Non abbiamo nessun altro che può fare la punte nello stile di Cornelius. Inglese, 20 milioni, non si sa che fine abbia fatto completamente. Quei soldi li abbiamo visti come sono entrati, così sono spariti completamente. Inglese, desaparecidos del Parma. E non abbiamo nessun altro. Quindi ci tocca giocare all'Olimpico con Kucca punta, perché Cornelius ormai è cotto. Kucca, anche lui, è cotto, però ci tocca comunque stringere i denti. E lui come punta? Io vedevo un Parma completamente attendista, un Parma tutto chiuso, basso, che praticamente, secondo me, speravano di ottenere un punto e stop. Cioè, cercavano in tutti i modi di ottenere soltanto un punto. Poi, Veretout ha deciso di piantare un tiro nell'angolino basso, dove Seppert non ha potuto fare veramente nulla. Grandissimo gol di Veretout. E lì, vabbè, cosa vuoi fare? Dopo che hai fatto tutta la partita da attendista, vuoi provare anche a fare delle azioni? No, non siamo stati in grado assolutamente di fare azioni, non siamo stati in grado di partire in contropiede, lenti, brutti, insomma, ragazzi, brutta partita, brutta partita veramente. Però è normale che se tu hai un'unica occasione, quell'unica occasione, quel qualcosa che ti possa far almeno arrivare a pareggiare una partita in Speralta, per farti ottenere questo punto che ti serve per la salvezza matematica, te ne serve uno. Sono quattro partite che perdi di fila, tutte partite dove hai andato in vantaggio, e le stai perdendo tutte. No. No, ci deve essere, ovviamente. L'errore incredibile di una classe arbitrale che si dimostra sempre, sempre di più, pessima, pessima, una delle peggiori classi arbitrali che abbiamo in Europa, posso dire. Posso dire, ragazzi, veramente una classe arbitrale che non merita ad allenare la Serie A. Più che altro perché non c'è una regola. Ognuno fa come cavolo vuole. Ognuno... Cioè, tanto per farai capire, no? L'arbitro che era al bar voleva dare il calcio di rigore. Per lui era rigore. Per Fabri, no. due arbitri della Serie A entrambi nella stessa identicazione erano in disaccordo. Questo magari può far capire beh, ma allora vuol dire che non era un'azione semplice. No! No, perché era un'azione lampante. Era un'azione lampante. Semplicemente vuol dire che c'è qualcuno che non è in grado di fare quel mestiere. Non è in grado di farlo. Perché se un fallo di mano molto, ma molto, ma molto meno evidente di questo mi viene fischiato come calcio di rigore nella scorsa partita vedi appunto il calcio di rigore di Darmian non puoi nella partita dopo un fallo di mano molto più evidente non fischiarmelo. No! Perché allora io non capisco la regola. E allora io non sto più capendo la regola. Io allora inizio a pensare allora facciamo come cavolo ci pare. Però chi becco se becco un arbitro i falli di mano così li fischia l'altro non li fischia. Le spinte così li fischia le altre spinte non li fischia. Cioè andiamo a sensazione. Cioè io devo capire se riuscirò magari a portare a casa il risultato a seconda dell'arbitro che ho? Siamo arrivati a questo punto. Con il VAR? Con il VAR che doveva assolutamente togliere ogni dubbio? Ditemi voi cosa ne pensate ragazzi. Io sono stanco. Chi mi ha seguito su Instagram lo sa. Nell'istante in cui Fabri ha detto per me no Netflix. Netflix. Questo calcio ragazzi mi fa veramente schifo. Mi fa disinnamorare del calcio vedere queste cose. completamente disinnamorare del calcio. Ora è mezzanotte. Mi sono fatto il mio sfogo di mezzanotte. Me ne vado a letto. Ditemi cosa ne pensate ragazzi. Io sono veramente scioccato e al tempo stesso speranzoso che qualcosa possa cambiare prima o poi. Ciao Papirus.